Le attività relative alla gestione di una flotta possono risultare impegnative, ma non dovrebbero esserlo. Utilizzando i nostri sensori e dispositivi telematici avanzati, tramite il software di Fleet Management Calamps Ion e la piattaforma Telematics Cloud, è possibile tenere traccia di tutto da remoto, mentre proteggi i dati digitali dagli hacker. Potrai anche tenere informati i clienti e migliorare la produttività degli operatori. Saranno elementi fondamentali per aumentare l'efficienza operativa, ridurre i costi, ottenere prestazioni puntuali e aumentare la soddisfazione dei clienti. Proteggi gli strumenti e le attrezzature di valore all'interno dei camion, come scale, attrezzi e generatori. Potrai essere sempre avvisato nel momento in cui degli strumenti saranno dimenticati, così da poter evitare inutili costi di sostituzione. Con l'aiuto costante della tecnologia e dei software LowJack, potrai facilmente gestire più lavori contemporaneamente, mentre migliori la reputazione della tua azienda e la sicurezza pubblica, grazie al monitoraggio del comportamento di guida dei tuoi driver. Sappiamo tutti che gli incidenti possono accadere, purtroppo, ma quando accadranno, sarai felice di avere a disposizione i nostri servizi premium Crash Box. Crash Box ti aiuta a generare rapidamente report sugli incidenti, così da tutelare la vostra azienda da false richieste di risarcimento. Nel caso di incidenti gravi, Crash Box ti aiuterà a contattare i soccorritori mediante l'e-call e a fornire report dettagliati di ricostruzione dell'incidente. LowJack sarà al tuo fianco durante l'intero processo, dalla gestione della flotta all'ottimizzazione delle risorse, fino alla gestione degli incidenti. I nostri dispositivi e sensori integrati con le soluzioni software e i servizi ci aiutano a realizzare queste attività. Tramite il Telematics Cloud è possibile controllare, gestire e memorizzare il flusso di dati provenienti dai dispositivi e dai sensori installati. Una volta raccolti, vengono trasmessi nel nostro portale ION e trasformati in informazioni chiare e utili grazie agli strumenti di analisi. LowJack, soluzioni di intelligenza connessa per lavorare in modo più smart.